caro alain bogossian tu che hai giocato nel napoli ma che sta succedendo lì ma chi arriverà l'anno prossimo ad allenare questa squadra possibile che una squadra che vince lo scudetto l'anno prossimo non ha il tecnico incredibile veramente e anche il direttore sportivo se ne andrà quindi chi ci andrà ci andremo che te ho sentito dire che hanno contattato il tuo amico fabio cannavaro ragazzi tifosi del napoli forse l'anno prossimo in panchina avrete lui fabio cannavaro già vedo fuochi di artificio bombe a mano che verranno sparate non sentite le giornali fabio cannavaro ciao alain bogossian quindi tifosi del napoli guagliando e stringendo voi chi vorreste l'anno prossimo sulla panchina del napoli fatemelo sapere i commenti qua sotto mi raccomando scatenatevi voglio avere tutti i nomi più assurdi possibili direttore sportivo se volete anche dire chi avverà chi arriverà a posto di il giuntoloni e poi non capisco semplicemente giunto rilasci nella squadra top come il napoli per andare alla juventus con le penalizzazioni che ho giocatori sottosvalutati dovrei fare un mercato di vendite e poi forse compri qualcosa non lo so ne contendo lui contendo tutti quindi tifosi del napoli e non perché ci sono anche gli altri possono commentare ditemi chi arriverà al posto di spalletti e cosa ne pensate di tutta questa storia veramente assurda che tra litigi interni sta succedendo di tutto davanti alle telecamere tutti si vogliono bene ma dietro naso povera forza votate